Momento di imbarazzo in diretta a Canale 5 durante Mattino 5. Alla conduzione c'è Francesco Vecchi che per un approfondimento sulla situazione ucraina ha in collegamento da casa Emma Bonino, la senatrice connessa via internet direttamente da casa sua, fa un tiro di sigaretta proprio mentre Vecchi le sta ponendo una domanda. Così il conduttore le chiede di non fumare, non vogliamo trasmettere questo tipo di immagine. Vecchi lo fa con un sorriso di soggezione conscio di dire una cosa quasi ovvia e scontata che non dovrebbe nemmeno essere precisata. Emma Bonino però lo spiazza e chiede perché adducendo la motivazione sono a casa mia. A quel punto Vecchi ribadisce il concetto quasi incredulo, le ho solo chiesto gentilmente di non fumare. Emma Bonino ribadisce, io gentilmente le ho detto di sì. Un video che sta circolando molto sui social proprio per la reazione di disagio del conduttore costretto a ribadire l'ovvio che tuttavia non pare così ovvio alla sua interlocutrice in collegamento da casa.